Dopo aver superato il turno preliminare con il Romagna Centro, il Rimini ospita la Romeo Neri la San Maurese. Fa nel loro esordine a casa biancorossa le maglie personalizzate dei giocatori. Si va dalla numero 1 di Scotti alla 98 di Mazzavillani, mentre i giallorossi indossano le divise tradizionali, dal numero 1 al 20. Prima dell'affischio iniziale è osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto di Ischia. La partita. Al nono Gaiani su punizione colpisce in pieno la traversa. All'undicesimo Guiebra avanza e pesca in area Buonaventura, ma il numero 9 di casa perde l'attimo, permettendo la chiusura dell'ex biancorosso Rosini. Al diciassettesimo bello slalom di Arlotti, il cui traversone basso viene allontanato dalla retroguardia giallorossa. Al diciannovesimo il Rimini sblocca il risultato. Simon Cedi lavora palla destra, poi appoggia Pasquini, che lascia partire una bordata di sinistro che si insacca sotto l'incrocio. Il giovane centrocampista, cresciuto nel vivaio biancorosso, corre ad abbracciare Mister Muccioli dopo il suo primo gol tra i grandi. 1-0. Minuto 22. Angolo di Simoncelli. Buonaventura raccoglie la sfera sul secondo palo. Se la sistema sul sinistro è calcia, Passaniti non trattiene, ma Valeriene e Petti non ne approfittano, poi giocano a lontana. Al ventisettesimo rilancio lungo di Scotti. Buonaventura prolunga di testa per Simoncelli, che controlla di destro e calcia di sinistro. Il suo lob finisce oltre la traversa. Un minuto dopo, Nicoli per Jogan, che gioca di sponda per Scarponi, il cui tiro da fuori area è respinto da Scotti. Al trentaduesimo angolo di Pasquini, Passaniti ci mette i pugni. Valeriani prova a risolvere, ma alza la mira. Al trentatresimo una delle trame più belle della partita. Simoncelli fa filtrare per Arlotti, sfera Valeriani il cui piattone di prima viene bloccato a terra da Passaniti. Al quarantaquattresimo Pasquini ruba palla sulla trequarti e serve immediatamente Arlotti, che avanza e va al tiro, chiamando la deviazione difficile d'estremo ospite. Si va all'intervallo con il Rimini avanti di un gol. In avvio di ripresa ancora Pasquini sugli scudi. Sradica il pallone dai piedi di Lombardini e serve Buonaventura, che dopo un paio di finte consegna a Simoncelli. L'ex San Maurese non trova il bersaglio. Al quarto la San Maurese pareggia con Jogan, che si avventa su uno spiovente dall'auto di sinistra e da due passi indisturbato spedisce alle spalle di Scotti. Uno a uno. I giallorossi non fanno in tempo a gioire, che Simoncelli riporta in avanti il Rimini. L'attaccante parte da destra, si accentra e lascia partire un tiro che rimbalza davanti a Passaniti, ingannandolo. Due a uno al quinto. Al ventiduesimo Rosini per Gaiani, il cui tiro cross si adagia sulla parte alta della rete. Al ventiquattresimo, grossa chance per la San Maurese. Scotti esce per anticipare Jogan. Scarponi, con la porta spalancata, calza sopra la traversa. Al trentaquattresimo, Cicarevic per Variola, la cui conclusione schegge il legno alto. Al trentasettesimo, Lovati si infila tra Giù e Petti. L'arbitro punisce il contatto con il numero 13 Biancorosso, rigore. Si incarica della battuta Bonandi, ma il suo cucchiaio finisce sopra la traversa. Gli ultimi minuti sono ricchi di spunti. Prima Bonandi prova a rifarsi con un sinistro dal limite, Scotti attento e ribatte. Poi gli ospiti reclamano il rigore per un contatto in area tra Brighi e Bonandi. Questa volta il signor Monaldi di Macerata lascia proseguire. Quindi è Lovati a chiamare alla parata Scotti con un tiro da fuori. Al trentanovesimo, i Biancorossi pungono con Guiebre, che salta a Tartabini. E in trenare appoggia per dormi, che spreca. Sui titoli di Coda e Rosini a tentare la volè sugli sviluppi dell'ultimo corner della partita. Pallone fuori e triplice fischio. A passare il turno sono i Biancorossi, vittoriosi per 2-1.